Oggi le nostre note suonano per ricordare, per fare memoria delle poliziotte e dei poliziotti che hanno dedicato la vita al servizio del paese. Un pensiero che ritorna e nel silenzio diventa assordante. Tre note soltanto con un significato importante. Rendere onore ad Antonio, Vito, Rocco, Agostino, Emanuela, Vincenzo, Falter e Claudio sono stati uccisi dalla mafia insieme a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino perché difendevano i nostri valori, giustizia, legalità e libertà. Il Sacrario della nostra famiglia, la Polizia di Stato, la casa che custodisce e tramanda i nostri valori. Attorno a noi i nomi delle donne e degli uomini che hanno osservito le nostre comunità con coraggio e umanità. Ogni 23 maggio il nostro cuore torna a Capaci e vieda meglio. Si rinnova il dolore per la perdita, ma anche la forza del loro esempio. Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.